Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video Sono qui oggi per farvi un po' di pvp con questo bellissimo spadone Lo spadone da cavaliere nero, vada che andiamo subito sul scontro E non perdiamo altro tempo Casuale, perfetto Allora, voglio portare questo spadone più che altro perché è perfetto per una quality Vedete, scala B in forza e D in destrezza Destrezza non mi interessa moltissimo Cioè, e guardate lo scaling Più 295 Ok, dopo vi faccio vedere anche le statistiche Intanto andiamo subito a rompere qualcuno Molto bene, buona la prima, andiamo Questo qua sembra anche abbastanza onorevole, ha fatto un inchino Ricambiamo Allora, spadone, penso sia una spada bastarda Perfetto, allora Cerchiamo di studiarcelo un po' Sì, sto menando colpi a caso, eh E la cosa che più non mi piace di questo spadone È che gli attacchi L'attacco verticale Bruttissimo, non mi piace Ah, no, no Non è una spada bastarda, anzi, anzi è una spada che mi piace moltissimo Quella da ammazzavacqui Ecco, ti sei fatto beccare Ora cominci con mezza vita praticamente Vediamo come posso Avanti Ah, cavolo Eh, uno prova di affondo, l'altro ricambia di affondo Giustamente Ma Ha più Come Ha più poise di me Ma Ok, ci giochiamo tutto con un colpo Tutto con un colpo Nemmeno one punch man Vai No Eh, cavolo Eh, whip on heart Attack Whip on heart attack però E Ah Parità Beh, dai Cominciamo con una parità Non male, non male Il miglior combattente è lui Non va Non va bene Malissimo Stavo dicendo Un scanning di 295 Con 35 di forza E 34 di estrezza Vi faccio anche vedere la mia build La quality che uso io Per fare i video O almeno quelli O almeno le armi Che vanno bene con una quality Per chi non sapesse ancora cosa è una quality È una build basata su forza e destrezza Come potete vedere 35 34 E molta poca intelligenza e fede E soprattutto Niente fortuna Perché Di fortuna io non ne ho Ho deciso di volare sto spadone Anche perché mi piace moltissimo Il level design Le armi da cavaliere nero Mi sono sempre piaciute Sempre Ero sempre usate Anzi No Fino a poco tempo fa Lo trascurate Adesso cominciano a piacermi Ecco qui Altro sfidante È lo stesso di prima No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato Magari uno che ho affrontato Nel riscaldamento Sì ho fatto un po' di riscaldamento Prima di fare il video Altrimenti arrivavo qui Con 15 morti Nelle prime 15 Anzi nelle prime 10 15 morti Nei primi 10 Nei primi 10 Nei primi 10 Combattimenti E intanto Mi ha fatto anche male Ma io mentre parlo Non me ne frega nulla Mmm Ci decidiamo tutto Con un colpo Ne forze di parlare Uno perde la concentrazione Però sono riuscito A vincere lo stesso Dai Onorevole Onorevole Che dopo mezz'ora Di caricamento In realtà I grandissimi server Di Dark Souls Sono riuscito A connettermi Ne ho fatte due E dopo No Nessun'altra parte E anche questo qua Quei dopo i spadoni Comincia male Comincia a finire male Un po' un'arta a caso Come non l'ho preso Ah dai Uno 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 Due Due Dai che siamo due Ecco Due E io me ne sono arrivati Tre almeno Ops Niente Ancora Oh mi faccio sempre fegare Vediamo Ecco Ecco Voglio provare le cose fighe E faccio cagate Cheat Qualcuno Ecco Andata male Grazie Buon Facciamo andare bene Almeno questa Chi ci troviamo Lo stesso di No Che cazzo Scherzavo Scherzavo Me ne capitano Due di fila Alcune volte Questo qua è uno stregone Uno stregone Molto Katana Spero di no Sono stufo di combattere Contro katane Cos'è Non riconosco l'arma Ma Ma per niente Preso Dai vogliamo fare le cose fighe Vogliamo fare le cose fighe Andiamo di per Mangato Eh Ops Ecco qua E un peri Te lo sei beccato To Te lo meriti E andiamo di nuovo E na Ah no E un altro E un altro Sono tutti blu qua Io mi confondo sempre Penso sia lo stesso Aspetta Io riconosco Quell'arma Quell'arma È il fidget spinner Il fidget spinner oscuro L'arma più forte Di tutti Gli abissi Quello che Quello con cui Ho combattuto Una persona E ho ucciso Una persona Basta così Cento per cento Efficace Però vedi che anche lui Si caga in mano È talmente È talmente svalordito Dalla forza di quell'arma Che non riesce a brandirla Infatti Deve sta prendendo da me A meno che Non le dia a me adesso Dai Oh attaccherai prima o poi Cosa sei un metapod Che non attacchi È una È una pokemon reference Per caso Eccolo Nae Si Noi ridiamo e scherziamo Però intanto me le sta dando Con un colpo mi ha tolto Eccoli Ora è tornato ad essere Un fidget spinner No Peggio ancora Un fidget spinner elettrico Sì ma se andiamo avanti A rotoloni Cosa faccio No No Eh Eh cavolo L'avevo quasi preso E adesso cosa è diventato Ah sempre lo stesso Sempre lo stesso Ma perché lo usi come scudo Hai lo scudo Sulla schiena Ce l'hai per un motivo Ce l'hai per un motivo Non certo che potete Ti dare frecce E due No Eh sì Complimenti Ora manca un colpo O due colpo Si è Cosa ha fatto Non so cosa abbia fatto Perché non si è rigenerato vita Eh Ha fatto qualcosa di sbagliato Secondo me Beh dai è stato bravo È stato Bravo Però sono riuscito a battere Anche la mia arma più forte Si vede che sono l'unico Che può usare Il fidget spinner Ed ecco che ritroviamo L'eroe del fidget spinner Guarda un po' che mi saluta Salutiamo Saluda Non dico il nome Se no Ah no Non hai Non ha No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Mi sembrava Il fidget spinner da lontano Quanto vedo anche a lui Piacciano le armi da cavalieri nero Sei benvenuto con fratello No Oh qua O attacco io O attacco io Nego qua Va a finire che moriamo entrambi Quanto scommettiamo Fondo Preso Preso Dai non ti faccio Non ti faccio il point down Solo perché Usa anche te le armi da cavalieri nero Complimenti Molto bene Anche questo qua sembra abbastanza onorevole Ecco Non riesco a capire Non riuscirò a capire come combatte Dato che ha sia una lancia Se uno spadone Ma qui uno spadone Ah quello di Lothar Che bello Bello Prima o poi Ve lo portiamo Se l'è baffato in corsa Eh sì sì Anche il backstab vuoi Vuoi anche il panettone Dato che è quasi ora Oh qua Eh sì sì Questa è una delle cose Che non mi piace Oh lo prenderò Prima o poi Però io ci ho messo Molto peggio di lui Lui è Non dico quasi a full vita Ma Ma ci siamo vicini Io gli ho dato solo un pugno Lui me ne ha tirati Per fortuna che Che The legend never dies Chissà come mai Eh che Grazie terremoto Quel terremoto Poteva uccidermi Oh se lo uccido così Però dovete darmi una medaglia Morto così Guarda Io Salto di gioia Eppla Dopo quest'ultima azione Magnifica Passiamo alle conclusioni E' uno spadone molto forte Soprattutto nelle quality Però A due mani Mi fa un po' stagere il naso Per via Di questi Attacchi verticali Che sono molto limitati Rispetto a questi Questi riprescono molto di più Ma va bene Non posso farci nulla Cosa fa quello lì Vabbè Lasciamo perdere Detto questo Ci vediamo al prossimo video E Ciao a tutti Divertitevi con questa arma Ciao a tutti 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 Grazie.